dopo aver tagliato i capelli applicheremo le extension visto? ma prima dividiamo i capelli in ciocche Nila? Nila, dai, basta giocare vieni qui allontana le forbici non voglio tagliare i capelli quando ti metterò le extension avrai dei capelli lunghissimi ho bisogno di allenarmi tutto bene là in fondo? sì, cominciò subito devo solo... c'è un busto per acconciatura? un ragno! c'è un ragno gigante sul mio intreccio capelli su, avanti, calmati non sarà questa gran cosa, Giselle se ne è andato scommetto che era belenoso dai, Giselle era semplicemente un ragnetto cosa farai se ne troverai uno quando avrai un tuo salone? userò lì se ti cida devi superare le tue paure stile profusione i capelli una passione una VIP segui i suoi sogni una VIP voglio diventare non mollare mai credi in te e brillerai look da paura inizia l'avventura I love VIP Giselle è solo un ragno tutti noi abbiamo delle paure è perfettamente normale infatti vedrai che ti aiuteremo a vincere la tua non so se ne sarò capace davvero solo a vedere quelle zampe pelose inizio a tremare tutta sai cosa, Giselle? mi hai fatto venire una grande idea non so se questa cosa mi piace, ragazze se non li vedi sono certa che non ti daranno tanto fastidio infila la mano nella scatola e vedrai che non succederà nulla non lo so sta tranquilla puoi farcela oh, com'è morbido sembra seta, eh? è un barragnatelo Giselle, stai calma tranquilla, erano solo capelli non mi importa basta così non voglio fare questo gioco ma ti resta ancora una scatola? ma non fa niente lasciamo stare, ragazze e torni a me in classe per caso hai un piano B? oh, che forza cos'è giochi a nascondino? non è un gioco è una cosa seria sto cercando di proteggermi da Mia da Mia? ma di cosa stai parlando? finché mi lavo i miei petti nei capelli va bene ma tagliarmeli no, mai oh, è questo il problema Mia vuole solo usarti per fare pratica con il VIP trend ti tagliano una ciocca e ti mettono delle extension fantastiche avrai una chioma lunghissima hai visto che belle? wow è per te quel look beh, sì ma lo ammetto l'idea di tagliarmi i capelli mi fa paura fin da quando ero piccola capitò a tutti di aver paura di qualcosa prima o poi ricordo che qualche anno fa ho fatto un sogno stranissimo stavi felicemente dipingendo quando è apparsa una nuvola scura all'improvviso sei stata brava Alexia sei arrivata in finale sì ma ero molto nervosa vedevo nuvole nere ovunque oh, povera cagnolina vedi Stella non dovevi raccontarle nulla dei tuoi sogni ma ossolo dovresti smettere di essere così superstiziosa giusto Alexia il tuo talento è l'unica cosa che conti sei una big bets sapete anch'io ho superato la mia paura dei mostri ah adoro andare a fare shopping con voi e se incontreremo un mostro lo spaventeremo di certo cari followers rieccomi qui pronta per fare dello shopping oggi nessun mostro non mi spavente non mangiarvi voglio solo fare shopping ma Lady Gigi è solo il pupazzo gonfiabile del centro commerciale vedete followers i mostri non esistono la verità è che insieme riusciamo sempre a fare tutto scusaci tanto Maya forse siamo state insistenti e anche un po' prepotenti tu balli così bene io dovresti partecipare al talent show amiche ora calmatevi ecco io non posso partecipare al talent show ma perché dovete scusarmi ma non sono brava come pensate stai scherzando tu balli benissimo guarda il video che abbiamo registrato in spiaggia senza che tu lo sapessi ma non riuscite a capire non riesco a ballare quando qualcuno mi guarda non riesco proprio a muovermi dobbiamo fare qualcosa ma come la possiamo aiutare? deve essere più sicura di sé il problema è che si nervosisce quando mentre balla ci sono persone attorno giusto? aspettate mi è venuta un'idea per cominciare già se tutte voi siete state in grado di farlo anch'io posso riuscire a vincere la mia paura sì ma perché devo essere l'unica che si spaventa? vorrei avere il vostro coraggio no l'ascensore si è fermato non respiro mi fa paura restare chiusa qui dentro Hayley cosa ti succede? Hayley? che aspetta la luce? aiuto aiuto io ho paura del buio aspetti di gridare così stai consumando l'ossigeno ragazzi vi prego cercate di calmarvi non c'è bisogno di spaventare ehi non sono l'unica fifona calmatevi adesso ci penserò io ragazzi adesso ho capito tutti abbiamo delle paure ma dobbiamo affrontarle posso farcela brava Giselle ce l'hai fatta hai vinto le tue paure ciao ciao piccolo ragno Nila dove eri andata? te lo dico dopo ora prendi le forbici facciamo quel look puoi contarci extensions style wow che conciatura la adoro mi sa che li preferisco lisci no anzi con qualche onda non lo so ci stai facendo impazzire Lexi ha ragione mia è solo un appuntamento a quanto pare stai perdendo la calma per una volta rilassati andrà tutto bene fidati sarai splendida cosa dici siamo pronte? cominciamo pronto? pronta? butterfly style stile profusione i capelli una passione una vip segui suoi sogni una vip voglio diventare non mollare mai credi in te e brillerai look da paura inizia l'avventura i love vip il primo appuntamento di mia cosa mi avete fatto? che cosa è successo? non riesco a capire mi prude dappertutto pizzica è davvero strano abbiamo fatto come al solito cioè? beh è la prima volta che usiamo questo gel per il volume potresti essere allergica cosa? ora chiamo il numero sull'etichetta di sicuro avranno una soluzione pronto? abbiamo un piccolo problema una reazione allergica spero che passi presto non farò in tempo per l'appuntamento ok la ringrazio molto che cosa ti hanno detto? come rimediamo? sta tranquilla è un'allergia che andrà via da sola in un paio di settimane non mi prendete? che prurito che prurito sì anch'io mi prude tutto cosa vi succede? dove diamine siete state a giocare? avete le pulci? settimane! l'appuntamento è nel pomeriggio bisogna fare qualcosa mia restiamo calme vedrai che ci verrà un'idea proviamo con un po' di questo e questo pronta! visto? ora non si nota quasi più niente potrai andare al tuo appuntamento contenta? non sono troppo arancione? per niente stai benissimo non lo so sembra ancora strana non lo noterà nessuno vedrai mia che ti è successo? sembra tu abbia messo la testa in un sacchetto di Citos sono sicura che stia esagerando non credo proprio sono spaventosa dovrò annullare l'appuntamento parassiti piccoli insetti succhi a sangue tranquille la risolveremo ma prima vi devo isolare che vuoi dire? isolarci? torno con la lozione per le pulci non vi muovete da qui mia! aspetta ferma hai la pazza piena di pop corn? che seccatura queste pulci già avete rovinato il nostro gioco ora vedrai fukashara vieni qui nila non scappare prendimi nila ciao hai visto mia? si è appena corsa via in quella direzione ma cos'hanno tutti quanti? aiuto no 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 mia finalmente ti ho trovata ho un aspetto ho un aspetto orribile beh non ha importanza quello che tu hai dentro farebbe innamorare chiunque credi davvero? assolutamente e comunque la situazione non può diventare peggio di così per fortuna non ci ha preso insomma come dicevo perché? perché? capitano tutte a me? oh 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 nila nila sto arrivando nila sto arrivando c'è mancato poco per fortuna stai bene come sei finita lì dentro? oh le pulci mia sei stata incredibile come ti sei lanciata e quel salto e cosa? cosa c'è ora? la tua faccia la mia faccia? che cos'ha? che colore è? ah è andato via tutto non era allergia era la tinta ero così nervosa per l'appuntamento che non mi era venuto in mente mia no che cosa vai? ciao fabio come stai? nila è piena di pulci ripensandoci credo che dovresti cancellare quell'appuntamento buongiorno oggi ho una novità importante da comunicarvi conosco una cantante Lily Joy forse il nome vi dice qualcosa sta girando il suo nuovo video musicale a Cat Town e vuole scegliere una studentessa dell'accademia per occuparsi dell'acconciatura per il video che forte wow che bello ma come la sceglierà? beh per la scelta ognuna di voi proporrà un look li manderemo a Lily Joy e nel pomeriggio ci farà sapere cosa ha deciso stile profusione i capelli una passione una VIP seguo i suoi sogni una VIP voglio diventare non mollare mai credi in te e brillerai look da paura inizia l'avventura I love VIP non espellermi dall'accademia provaci di nuovo beh hai ancora un buon margine di miglioramento però siamo qui per questo giusto Mia? molto bene Ailey una proposta veramente originale vai avanti così notevole Lexi continua fai ad Alexa l'acconciatura che hai disegnato talent style wow Fabia raggiungimi più tardi al caffè ho bisogno di parlarti da sola ok? no Fabia lo sai com'è fatta la Beckett? ragazze io credo che voglia espellermi come? no di sicuro non è così è davvero ingiusto mi sono impegnata così tanto e la Beckett vuole farmi fuori lo sai cosa faccio io quando mi sento arrabbiata? scrivo quello che provo sopra un foglio di carta butto fuori tutta quanta la rabbia e poi strappo il foglio e lo giotto via così mi libero dalla rabbia la Beckett non valorizza i suoi studenti l'accademia sarebbe migliore senza di lei molto bene Ely cosa stai facendo Fabia? niente è soltanto che non mi piaceva come stava venendo il mio disegno quindi ora mi sa che andrò a... Fabia la lezione non è finita è ora di esercitarsi con l'extension ma... sì sì Lily Joy stanno lavorando a sodo ok no no non preoccuparti vedrai che sarai contenta sì ci sentiamo dopo ciao Fabia un attimo solo salve Miss Beckett so perché voleva vedermi oh davvero? se mi vuole spellere lo dica e basta no forse sono stata troppo dura con te ma se sono esigente è perché so che puoi creare qualsiasi cosa tu voglia Fabio mi ha detto quanto ti sei impegnata per essere qui se continui a farti bloccare dalla paura alla fine rinuncerai alla tua passione ed è un peccato perché se pattinare il tuo sogno non dovresti smettere il bigodino ha funzionato Gwen non è stato merito del bigodino è stato merito tuo sei stata grande perché hai creduto in te stessa in realtà non avevi quel bigodino durante l'esibizione non ne avevi alcun bisogno cosa? ho fatto sì che tu credessi in te ho avuto un'altra idea considerando tutta la tua esperienza perché non aiuti le altre ragazze a migliorare i passi o magari le ispiri ad esempio hai dimostrato di essere bravissima ah zio sei il migliore non sarei nessuno senza di te e senza le nostre amiche di Pets amethyst style un look meraviglioso come il tuo cuore se continui così farai molta strada ehi com'è andata con la Beckett? che cosa ti ha detto? no non era niente anzi in realtà è stata molto carina quindi come mai sei nervosa? il foglio l'ha portato via Shara e se lo trova la Beckett è finita cosa? ho fatto quella cosa che mi hai detto di buttare fuori la rabbia scrivendo tutto su un foglio e ho scordato di gettarlo via forza ragazze siamo pronte per la videochiamata vediamo chi accuncerà i capelli della nostra star Lily Joy l'hai ben trovata è un piacere averti insieme a noi il piacere è tutto mio che fortuna avere delle parrucchiere così talentuose hai fatto la tua scelta giusto? esatto ho deciso che non ora che cos'è? solo un attimo Lily Joy scusa oh no 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 che succede Fabia cos'è quel foglio? fammi vedere qualcosa non va? no no niente scusi Miss Beckett è solo è una lettera per le mie amiche che gesto carino Fabia ma non è il momento più adatto per oh mi piace sì sì leggile pure Fabia sì ma certo benissimo ora la leggo ci sono è molto difficile fare il parrucchiere essere il migliore del mondo ma grazie alle mie amiche ogni giorno per me è come un sogno oh Fabia ma è meravigliosa falla sparire subito bene dopo questo bel momento Lily Joy dici cos'hai deciso il mio pezzo riguarda l'amicizia perciò voglio che tutte voi mi facciate i capelli per il video cos'è che succede forza prendi il compito e andiamo è chiusa siamo in trappola stile a profusione i capelli una passione una VIP seguo i suoi sogni una VIP voglio diventare non molare mai credi in te e brillerai look da paura inizia l'avventura I love VIP qualche ora prima il compito sorpresa in questo caso invece ragazze abbiamo una colorazione molto più accentuata visto come risaltano i riflessi lexicloy come dicevo i riflessi di questo tipo vanno applicati dalla radice alle punte allora cosa c'è di tanto divertente e così vi mettete a disegnare durante la lezione non fare così Fabio non è da te arrabbiarti tanto già tu sei un insegnante moderno io sono moderno aspetta no ora non mi prendete in giro immagino che non seguiate la lezione perché conoscete già la storia dell'acconciatura canina perciò domani avrete una verifica tutte e due leggi chloe pronte per il concerto di stasera spero tu sia stata attenta a lezione perché voglio un look con riflessi da urlo non possiamo andarci che cosa ma abbiamo preso i biglietti da settimane Fabio domani ci fa fare un compito perché non seguivamo la lezione sui riflessi anche se vi potessi fare quei riflessi subito non saprei come mi dispiace beh suppongo che dovrò andarci con la solita acconciatura qualcuno ha detto riflessi? ci penso io bubbly style wow sei straordinaria questo look ti sta benissimo grazie Giselle ci vediamo ragazze questo concerto sarà il migliore di sempre già e noi ce lo perderemo ma non preoccuparti ci bastano un paio d'ore a prepararci per il compito è un gioco da ragazzi ragazzi ecco i libri per il compito di domani vi lascio al vostro lavoro io ho parecchio da fare benvenuto Fabio le acconciature dell'antichità breve storia del tupè come può Fabio aspettarsi che studiamo tutta questa roba entro domani adesso vado da lui e glielo dico non ci può fare questo ferma guarda sono le domande del test splendido basta aspettare che diventi buio e potremo rubarle dalla scrivania sembra di essere in un film è chiusa cosa facciamo? rilassati ho tutto sotto controllo benvenuto Fabio sei la migliore è stato il miglior concerto della mia vita mi sono divertita un sacco Zoe guarda la c'è qualcuno in classe dei ladri dei ladri presto dobbiamo suonare l'allarme adesso è il nostro cos'è? che succede? coraggio prendi il compito e andiamo è chiusa siamo in trappola ci hanno chiuse dentro non è divertente sta arrivando la polizia per il furto di un compito? Chloe sei tu? è Zoe c'è Alexia con te dovete farci uscire da qui che ci fate lì dentro? volevamo rubare il compito di domani ma abbiamo fatto un pasticcio aprite la porta presto provate con questa se Fabio ci sorprende verremo espulse attenzione ladri non identificato non identificato non identificato non ci riesco chi è là? ragazze voi cercate di aprire in qualche modo noi lo distraiamo Zoe Alexia è tutto a posto cosa è successo? quanti sono i ladri? ehm no Fabio eravamo noi cosa? insomma abbiamo premuto l'allarme per sbaglio siete sicure? è meglio che dia un'occhiata è solo che che c'è un topo enorme un topo? sì lo dobbiamo trovare è andato da quella parte coraggio ci sono questo trucco è sempre funzionato beh benvenuta nel ventunesimo secolo questa porta è digitale oh io voglio uscire è la quinta volta che controlliamo nei dintorni non lo so ho la sensazione che mi stiate nascondendo qualcosa noi? figurati troveremo quel coniglio vedrai coniglio? non avevate detto che era un topo? beh sì infatti un topo coniglio perché in questa stagione è pieno adesso basta io torno dentro voglio scoprire che sta succedendo voglio uscire da qui fatemi uscire ascolta arriva qualcuno bene finalmente no non va bene se ci beccano a rubare il compito saremo espulse bentornato Fabio un momento qui mi sembra sia tutto in ordine falso allarme mi tremano le gambe ci è mancato tanto così che fossimo espulse forza Chloe abbiamo un sacco da studiare beh visto che abbiamo qui le domande oh non ti è bastata questa lezione oh d'accordo ben fatto Chloe come è andato il compito? l'ho acceccato fantastico non avete dormito ma avete imparato tante cose perché non andiamo in centro a mangiare qualcosa? forza dobbiamo festeggiare che cosa ne dite? ragazzi riconoscimento facciale in corso studente non riconosciuto fantastico oh sembri assonnata qualcuno non ha dormito stanotte fifa da primo giorno no Chloe non sei nervosa? domani è il nostro primo giorno non posso dormire tu puoi nulla di grave non vedo l'ora di iniziare le lezioni diventare la migliore hairstylist di tutto il mondo tu? la migliore? che carina mia hai già imparato a fare una treccia stile profusione i capelli una passione una VIP segui i suoi sogni una VIP voglio diventare non molare mai credi in te e brillerai look da paura inizia l'avventura I love VIP Ali siamo una squadra buongiorno signorine le vostre compagne oggi studieranno con Fabio voi avrete la fortuna di iniziare il corso con me fortunato capisco non vuoi che io sia la tua insegnante signorina certo che sì non volevo dire che io iniziamo volontarie? io Miss Beckett ho sentito cose meravigliose su di lei glitter style è straordinario grazie ora è il vostro turno di mostrarmi di cosa siete capaci vedete lì è una roulette di colori capace di combinare tutti i tipi di colori voi dovrete usarla per creare la tinta perfetta wow che bello è fantastica oh e ancora una cosa lavorerete insieme come una squadra avete sino alla fine della giornata per creare il mix di colori buona fortuna ehi Miley vuoi giocare con noi? certo si suppone che dovresti passarla mi dispiace è solo che non so come si fa non ho nessun amico con cui giocare non preoccuparti ora nile io saremo tue amiche ecco qui un tocco di rosso aggiungerà poteri al mix buona idea blu bisogna mettere colori freddi sono molto più eleganti dobbiamo decidere insieme i colori è proprio quello che farei se volessi fallire non ho nessuno Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Blu, rosso, blu, rosso, blu, rosso, blu Beh, lo puliremo e basta No, la giocca della Beckett Guardate, l'abbiamo macchiata È distrutta Non sarebbe successo niente se mi aveste ascoltata Ma se è colpa tua Non lasciavi stare la ruota Ragazze, smettetela Se lavorate insieme sono sicura che riuscirete a sistemarla Ah beh, forse hanno ragione È che queste macchie non andranno via Beckett voleva vedere una tinta straordinaria, giusto? Però non ha detto che doveva essere per forza sul busto delle acconciature Stai dicendo che... Beh, signorine, ammetto di essere intrigata Avanti, fatemi vedere La mia giacca è... Beh, ha parlato di una tinta straordinaria Ma non ha detto dove applicarla È incredibile! Il mix di colori Il design Le forme a spirale Sentite, ragazze So di non essere stata molto simpatica Suppongo che volessi impressionare la Beckett così tanto Che sono stata meschina con voi Quindi? Siamo promosse? Certo che no Questa è una scuola di parrucchieri Non un negozio di vestiti Dovresti applicare la tinta al busto E anche velocemente Avete due minuti Sappiamo come fare, ragazze? Sì! Nelle puntate precedenti Era Academy Certo che lo faranno La VIP3 e io sarò lì come insegnante Direi, dobbiamo entrare nel salone mobile E attivare il piano Arriverò tardi al colloquio E perché questa valigia è così pesante? Non volevamo che ve ne andaste Che ci dimenticaste per sempre Mi è venuta un'idea Pronte? Via! Grazie amiche Grazie mille Lady Gigi Nila! Ciao, sono Fabia È un piacere Amiamo il mondo delle acconciature C'è un nuovo corso che inizio adesso Entrate a informarvi Buongiorno Buongiorno Sono la signorina Beckett La preside della scuola Suppongo che siete qui Perché volete entrare nella VIP3 Academy Se siete tutti pronti Ehm Ciao Scusate il ritardo La signorina Ailey, vero? Una candidata a entrare in Accademia Non dovrebbe tardare il suo primo giorno Bene Se siamo tutti qui possiamo iniziare E' Alexia Ed è in compagnia Ti presento a Zoe Ciao Le nostre padroncine si sono conosciute l'altro giorno E vogliono iscriversi all'Accademia Anche le vostre? Sì Fantastico Wow Chloe Questo posto è così figo Andiamo Lexi Siamo in ritardo E ho sentito che la preside di questo posto Non è molto gentile Ehm Ops Silenzio Cominciamo proprio male La puntualità è cruciale Qui in Accademia Seguitemi Vi mostrerò la scuola Stile profusione I capelli Una passione Una VIP Segui i suoi sogni Una VIP Voglio diventare Non mollare mai Credi in te E brillerai Look da paura Inizia l'avventura I love VIP Voglio andare alla V-Pair Academy Seconda party Tra queste mura Abbiamo formato i migliori parrucchieri del mondo Cool Che posto straordinario, vero? Sì, Miley Anch'io preferirei fare il tour da sole Sono solo io O ha appena parlato con la sua cagnolina? Beh, la verità è che anche Shara e io possiamo parlare tra noi Sul serio? E come fate? Beh, per poter parlare con loro dovete vivere un momento speciale insieme Certo Alexia, tesoro Parla con me Mi piace un sacco Voglio iscrivermi Prego, signorine Da questa parte Siamo arrivati all'aula principale Dove potrete imparare a creare le migliori acconciature e i look Con le migliori attrezzature che un parrucchiere possa avere Potrete imparare così tanto in questo spazio meraviglioso Sempre che dimostriate di avere talento naturalmente Solo le migliori arriveranno qui Vediamo Hayley, tu hai già esperienza come parrucchiera Ma devi migliorare le tue abilità E anche tu, Fabia Uscirete da qui come parrucchiere professioniste Per quanto riguarda il resto Qual è esattamente la vostra esperienza nel mondo delle acconciature? Beh, io... Io... So fare le trecce Temo che non abbiate quel che ci vuole per stare qui Sul serio? Non ci posso credere Ragazze, aspettate! Perché queste facce tristi? Cos'è successo? Hayley e io siamo entrate, ma le altre non ce l'hanno fatta Conosco la signorina Beckett Vi sta solo mettendo alla prova Mostratele il vostro potenziale come studentesse dell'accademia Sono sicuro che cambierà idea Vuole vedere qual è il mio potenziale? Eccolo, signorina Beckett Ci deve essere un modo per provarle che abbiamo quello che ci vuole Ehi, aspetta! Credo di avere un'idea Fabia, abbiamo bisogno di te e di tuo zio per aiutarci con le acconciature Certo, ma che intenzioni avete? Organizzeremo il più grande evento di air styling che ci sia mai visto a Cat Town Ma come ci assicuriamo che lo venga a sapere? Ah, non ti preoccupare, lo scoprirà! E non solo lei! Perché funzioni, la città intera deve venire a saperlo Io farò un magnifico cartellone Così tutti vorranno vedere com'è una buona acconciatura Beh, io ho 15.000 follower Possiamo anche fare una diretta dal mio profilo Perfetto! Tu presenterai l'evento di fronte a migliaia di persone Neanche per idea Useremo il mio profilo Ma non posso parlare di fronte a così tante persone Sono timida Ma ci vuole una presentatrice Qualcuna audace, qualcuna forte Voglio gli altoparlanti qui adesso! Questo evento è la mia chiave per poter entrare nell'accademia! L'abbiamo trovata Benvenuti al più grande evento dell'anno! Seguite le tendenze infatto dei capelli? Impazzite per le acconciature audaci? Allora questo live show è per voi! Questo sarà fantastico! Come ti sei potuto dimenticare il phon? E ora cosa facciamo? Non sono abituato a questo stress, Fabia Non so come lavorare così Grande, il mio phon! Aspetta, questo non è il mio phon! L'ho preso dalla packet! Cosa? Ehi, non vi voglio stressare Ma non avete ancora finito? Chloe non può intrattenere la gente ancora per molto Sta... Facendo cose strane Arriveriamo alle acconciature tra un attimo Ma prima, che ne dite di un altro aneddoto divertente sui capelli? Sapevate che ogni giorno perdiamo tra 50 e 100 capelli? Oh no, i miei preziosi capelli! Ci siamo! Rainbow Style! Pronti, ci siamo! Finalmente! Il momento che tutti stavate aspettando è arrivato! Lexi e Lady Gigi! Avete mai visto un tale mix di colori? Lexi, sembri un arcomaleno! E non perdetevi le onde di Lady Gigi! Stai davvero benissimo! È vero, continua così, Lady Gigi! Stai spaccando! Oh! Signorina Beckett, le piacciono i nostri look? Oh, ma che coincidenza trovarla qui! Non fate finta di niente! Non avevo scelta! Siete di fronte all'accademia? Potete iniziare a smontare tutto quanto! Perché avete passato il mio test! Anche se non siete parrucchiere, avete dimostrato di avere altri talenti che vi aiuteranno a diventare le migliori hairstylist! Ci vediamo domani in classe! Non ci posso credere! Ragazze, voi riuscite a capire Alexia? Wow! Questo vuol dire che abbiamo un momento speciale! Sono così emozionata! Chloe? Eila? Possiamo finalmente parlarci e non dici niente? Giselle, stai bene? I love you lucky! Ma zio, cos'è questo? È la migliore accademia di parrucchieri che esista al mondo! Non voglio che te ne vada, però capisco che un giorno dovrai volare per conto tuo! Per favore, torna a Natale! Non me ne vado! Per ora... Due anni più tardi! Questa è l'ultima! Onestamente, non capisco perché stiamo partendo con le nostre valigie! Zio, non so ancora se verrò accettata! Se voglio studiare lì, devo prima passare un colloquio con la direttrice! Che succede se non mi ammettono? Certo che lo faranno! La Vipera Academy è fatta per te! Ce l'hai nel sangue! Inoltre, io sarò lì come insegnante! Sì! Diventerai la migliore parrucchiera del mondo! Eh? Eh... Beh, la seconda migliore naturalmente! Stanno preparando tutto per partire! Dobbiamo entrare nel salone mobile e attivare il piano! Che piano? Come che piano? Se Fabia arriva a quel colloquio, starà fuori per tanto tempo e si farà nuovi amici a Cat Town! Si dimenticherà completamente di noi! Oh no! Dobbiamo impedire ad ogni costo che arrivi all'Accademia! Seguimi! Lady Gigi, aspetta! Zio, è pesante! Lascia che ti aiuti! No! Posso farcela! Guarda! Hai visto? E senza spettinarmi! Partiamo! Stile, profusione, i capelli, una passione! Una VIP, seguo i suoi sogni! Una VIP, voglio diventare! Non mollare mai! Credi in te e brillerai! Look da paura, inizia l'avventura! I love VIP! Voglio andare alla VIP Air Academy parte 1! Ehi, tu credi che funzionerà? Stiamo proprio per scoprirlo! Ci siamo? Ehi, ma che... Proprio quando stavamo entrando a Cat Town... Che ammasso di ferraglia! Non capisco che cosa sia successo! Beh, lo sistemerò in un momento! Ma cosa stai dicendo? Arriverò tardi al colloquio! Ce l'ho tra venti minuti! Shara, corri! Dobbiamo andarcene ora! Buona idea, ragazze! Alleggeriamo il peso! Non è per questo, zio! Arriverò in ritardo, vado lì a piedi! Ne sei sicura? Ci vorrà solo un momento! Va bene così! Non è poi così lontano! È veramente lontano! E perché questa valigia è così pesante? Aria! Ho bisogno d'aria! Cosa stai facendo? Ci scopriranno! Lady Gigi! Nila! Che cosa fate qui? Le vostre padroncine saranno in ansia! Beh, noi volevamo... Organizzare un arrivederci! Volevamo farvi una sorpresa! È davvero molto gentile, ma... Io temo che non serva! È troppo tardi adesso! Non arriverò mai in tempo al colloquio! E perciò non riuscirò mai a entrare nell'accademia! Ok! Abbiamo rotto il salone mobile! Cosa? Non volevamo che ve ne andaste, che ci dimenticaste per sempre! Questo non succederà mai! Non vi avrei mai abbandonate! Ad ogni modo, è troppo tardi! Non lo permetterò! Mi è venuta un'idea! Amiche? Siete sicure che questo funzionerà? Stai tranquilla! Pronte? Via! Attenti! Attenti! Ma dove sarà andata? Lady Gigi! Dove sei? Lady Gigi! Ehi! Lady Gigi! Ma dove può essere? Ciao! Ciao! Scusami! Hai visto una cannellina? Non è tornata a casa! Cosa? Anche tu hai perso il cane! Anche tu! Il mio si chiama Nila! La sto cercando da un po'! Ah, mi chiamo Mia, comunque! Sono Giselle, piacere! E perché non le cerchiamo insieme? Sono sicura che le troveremo prima! Ehi! Una notifica! Due cagnolini stanno provocando il caos a Cat Town! Oh, questa è la mia! Ed è ancora un'altra! Guarda! Sì, questa è Nila! Sono a Cat Town! Andiamo lì! Grazie amiche, grazie mille! Senza di voi non ce l'avrei fatta! È stato un colloquio difficile, ma spero di entrare nella VIP Air Academy! Ce la farai! Nila! Lady Gigi! Giselle, Mia! Cosa fate qui voi due? Fabio, il mio parrucchiere! Stiamo cercando Lady Gigi e Nila! Sappiamo solo che sono state viste verso la piazza di Cat Town! Nella piazza? È dove si trova la VIP Air Academy! Credo di sapere dove siano! Veloci! Spingete il salone mobile! Cercherò di metterlo in moto! Andiamo, ragazze! Lady Gigi! Nila! Eccomi! Ciao, sono Fabia! È un piacere! Mi dispiace per le vostre cagnoline! Sto per iniziare un corso qui alla VIP Air Academy e si sono intrufolate nella mia valigia! Hanno pensato che non ci saremmo viste mai più! Che cattivelle che siete! Eravamo preoccupate per voi! Quindi, un'accademia per parrucchieri, eh? Wow, che bello! Amiamo il mondo delle acconciature! Veramente? C'è un nuovo corso che inizio adesso! Entrate a informarvi! Che ne pensi? Diamo un'occhiata? Certo! Oh, guarda! Dai, entriamo! Continua! Oh! Oh! I love VIP! Grazie a tutti.